E benvenuti No 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 posso spiegare Posso spiegare Posso spiegare È un link Marco perché hai inquadrato questa cosa È un link Non lo so erano Salutavano Posso spiegare Era in intro ho pensato salutano E benvenuti In questa nuova Trasmissione Allora Vabbè è il potere del potassio prego prego allora no possiamo spiegare Napoli